Per verificare se il bimbo presenta una preferenza nell'utilizzare un braccio rispetto all'altro, si può mettere il bimbo a pancia in su sul tappeto e gli si pone davanti un giochino. Si parte con la posizione al centro per verificare se il bimbo raggiunge il giochino con entrambe le braccia. Poi si sposta il gioco a destra e si vede con che braccio prende il giochino e poi lo si sposta a sinistra e si vede che braccio utilizza. Normalmente se glielo si pone al centro dovrebbe andare a raggiungerlo con entrambe le mani, se lo si sposta a destra con la mano destra, se lo si sposta a sinistra con la mano sinistra. Molto spesso chi presenta delle preferenze sia quando il gioco è al centro sia quando il gioco viene spostato parte comunque o utilizza soltanto un'unica mano. Quando invece il bimbo è più piccolo lo si osserva e si va a notare se il bimbo preferisce mettere in bocca di più una mano rispetto all'altra.